L'euro SPA vende i gioielli di famiglia, anzi no, forse. Pierluigi Borghini, presidente della società partecipata al 90% dal Ministero dell'Economia e al 10% del Comune di Roma, oggi ha mandato una lettera ai ministri interessati per cercare di chiarire la querelle sulla vendibilità di euro SPA e dei suoi immobili. Il ministro della cultura Franceschini si era opposto alla proposta di vendere monumenti pregiati dello storico quartiere a sud di Roma, come il Palazzo della Civiltà del Lavoro. Cessioni, a detta del CDA di euro SPA, necessarie per far cassa, cercare di sollevare lo stato di crisi della società pubblica e necessarie anche per terminare l'infinita nuvola di Fuxas, il nuovo Palazzo dei Congressi voluto da Veltroni ed il cui costo inizialmente era previsto per 275 milioni di euro ed invece è poi lievitato intorno ai 413 milioni. L'ente che avrebbe lo scopo di valorizzare il grande patrimonio immobiliare dell'euro negli anni pare invece essersi solo indebitato, trascurando qualsiasi progettualità o idea. L'area dell'ex velodromo, abbattuto nel 2008 tra le polemiche, resta una gigantesca buca inutilizzata. Le due torri dell'Eur sembrano macerie di una Beirut anni 80. L'acquario al laghetto non è mai stato completato e lo storico Luna Park è ormai fermo da anni. Come se non bastasse lente, è finito sotto l'occhio del ciclone dopo l'arresto del suo amministratore delegato Riccardo Mancini, coinvolto nell'inchiesta Mafia Capitale insieme a Carlo Pucci, ex direttore commerciale e valorizzazioni immobiliari di Euro S.p.A. Un ruolo chiave quello che ricopriva Pucci, non certo grazie al suo curriculum, che vanta un diploma di ragioneria ed un'esperienza da gestore di bar. L'avranno assunti per altri motivi piuttosto che per meriti sicuramente. Hanno gestito male tutto, qualunque cosa. Non ho ministrato male, io metterei proprio tutti quanti dentro lo zoo, i chiuderei dentro e adesso mangiate voi come mangia gente fuori. Sicuramente dovrebbero chiarire i soldi spesi come l'hanno spesi, più che altro. E cosa intendono fare? Cioè non vedo una programmazione. A criticare l'operato dei manager strapagati per i loro fallimenti, con stipendi annuali lordi e assai cifre, c'è anche il presidente del municipio Andrea Santoro. Io penso una cosa che EURSPA debba fare conti con i romani, non all'interno delle assemblee dei soci. Per me è inaccettabile pensare che alcuni signori decidano in una stanza che i musei dell'EUR debbano essere venduti a dei privati o che 40 persone dipendenti di una società come EURSPA debbano essere mandate per casa, perché? Per errori del passato, perché qualcuno ha fatto più di qualche errore nel passato. Grazie. 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 Grazie.